e ciao ragazzuoli benvenuti e ben ritornati qui accidenti che casino ciao ragazzuoli benvenuti e ben ritornati qui nel mio canale io sono Rick siamo a metà o comunque abbiamo interrotto l'altra volta l'ultimo video con appunto questa sessione di gioco in cui dobbiamo uscire dall'hangar e c'è il delirio assoluto vediamo se ce la facciamo se ce la farò ciao ok ho fatto perdere le mie tracce ma pensavo che smettessi di sparare ciao 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 Porta miseria Una spada Una spada a que? Una spada E' un'immagrazione! Uno! Ci ne va? E due cinema Gacchio ti spari Ho avuto anche il coraggio di spararmi Vai vai Ottima manovra, complimenti E adesso oltre al danno la beffa Deludiamo Come al solito Allora già che ci siamo Usiamo un kit medico Così ci curiamo tutti E poi ce ne riprendiamo Un altro Così andiamo a pari Nella migliore condizione possibile Allora Questa cosa Perché ci sono delle porte Allora Ci facciamo spazio Nella nostra postazione da cecchino Ok 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 Alla prossima! Ma non era morto prima? Sarà rimasto almeno sfregiato, spero. Eh, non che lo è proprio. Mamma mia! Ah, perché adesso? Cosa abbiamo fatto fino adesso, scusate. Finito, abbiamo finito il gioco, Razzuoli, specialista nel controllo dei parassiti, ricarica, duro come un'unghia, eh beh, effettivamente questo, c'è ragione. Soldato regolare. Bene, ragazzi, ovviamente il tutto era... Quest'ultima scena era finalizzata al far capire che ci saranno altri Sniper Elite perché la storia deve continuare e potenzialmente, non dico che sia infinita, ma comunque gli episodi che si possono ricreare sono tantissimi. Questa è una storia inventata perché non credo che ci sia mai stato un accrocchio, un aggeggio del genere, quindi penso che sia una storia inventata e potenzialmente, insomma, davvero i giochi che si potrebbero fare della saga Sniper Elite riguardanti appunto la Seconda Guerra Mondiale sono davvero tanti. Ma andiamo avanti che tanto, insomma, vi ricordo, innanzitutto vi ringrazio tantissimo per aver seguito la serie fino a qui, fino alla fine, presumo che arriverà il DLC, caccia al lupo grigio, ce l'ho, quindi penso di fare anche quello. Sono stato promosso, caccia al lupo grigio, sono stato promosso, sergente classe 1. Dicevo, penso che arriverà il DLC, caccia al lupo grigio, in quanto ce l'ho, non ho l'altro, almeno non credo, però vabbè, insomma, comunque almeno uno volevo farlo, già che appunto ce l'ho, me l'hanno dato gratuitamente con i preordini del gioco. Vi ringrazio per aver visto la serie, vi ringrazio di aver visto questo video, come al solito lasciatemi un commento per dirmi la vostra, un mi piace o non mi piace per farmi capire se avete gradito o meno, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzuoli!